Uno dei laboratori di animazione più famosi al mondo apre finalmente le porte del proprio regno. Dopo i capolavori di Si alza il vento, La città incantata, Porco Rosso, il mio vicino Totoro, Ponyo e la principessa splendente arriva l'affascinante viaggio all'interno dello studio Ghibli alla scoperta del magico mondo di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Il regno dei sogni e della follia. Evento speciale solo il 25 e il 26 maggio al cinema. Grazie. Grazie.